La situazione non è bella, la Vesuviana sta chiudendo, e la regione tenemente dice niente si può fare. Sta chiagnenne già s'aviana, mentre s'abbraccia Cubaiana e San Giorgio a Cremana, sulla posa sente già Napoli non sa che fare. C'è rimasto troppo male, e ho biscotti e castelli a mare, non mi posso più a mangiare. Ma non ha fermato, ramo solo una mano, voglia cicciano, come già fa? Questa crisi che ha creato, io mi sento carcerato, in questo paese Vesuviana, io non posso più tornare. No, non ha fermato, non darmi a stu tormenta, voglia sorrienta, come già fa? Grandissima, grandissima Gianni!